www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Festa di San Vincenzo Ferreri a Mussomeli che si celebra nel Santuario Marisantissima dei Miracoli Festa esterna di San Vincenzo Ferreri protettore degli edili Cura i festeggiamenti esterni l'omonima congregazione di cui è presidente il nuovo presidente recentemente eletto Vincenzo Antinoro La processione sta attraversando la via Palermo e successivamente imboccherà la via Madonna di Fatima La processione sta attraversando la via Palermo La processione sta attraversando la via Palermo Così i congregati della San Vincenzo Ferreri snodano in processione per onorare il loro santo protettore. Dopo la congregazione anche la confraternità Maria Santissima dei Miracoli accompagna il santo lungo le vie del paese. Una forte rappresentanza appunto della confraternità. Ave Maria, viene di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, viene di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Fermi, fermi, fermi. Avanti, fermi. Dietro, avanti. Ave Maria, viene di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, viene di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Procediamo avanti. E dopo la confraternità anche una delegazione dei volontari accompagnano in processione San Vincenzo Ferreri, mentre il rettore Don Ignazio Carruba invita alla preghiera. Porta in cielo, se le hanno successivamente, le decine se mi siede la tua prima di essere. San Vincenzo, pregate loro. Grazie. 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 banda musicale del maestro Giuseppe Noto accompagna il santo degli Evili. Un saluto a Castello Incantato. Vogliamo dire qualcosa su San Vincenzo? Diciamo che oggi è la Domenica della Divina Misericordia e questa festa si sposa bene in questa seconda Domenica perché San Vincenzo è stato Ministro della Misericordia, è stato sacerdote, è esercitato il perdono, la misericordia di Dio ma anche l'altro aspetto, la giustizia, temete il Signore, c'è scritto nel libro che lui porta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E la processione prosegue e sta attraversando la Via Madonna di Fatima. Grazie a tutti. 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 al quadrilio delle Rione d'Almazia e poi proseguirà per la via Calta di Setta e poi attraverso la piazza Roma e la piazza Manfredi-Ciaramonte e il resto della via dei Santi farà il suo rientro tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Ave Mariaatory Ave Maria Ave Maria Ave Maria